Architetti Sparti è una bella storia, perché comunque io lavoro a Roma in questa realtà e difficilmente ci sono situazioni del genere o eventi di architettura dove si parla di architettura dove in qualche modo noi architetti ci possiamo esprimere. Un momento di aggregazione fantastico per gli studi e per tutti i fornitori che ruotano intorno ai nostri studi. Che dire, è un momento anche per fare festa. È stata una bellissima esperienza, la prima occasione in cui ho potuto fondere a studio le mie due passioni, l'architettura e la musica. Grande entusiasmo perché l'abbiamo trovata veramente una iniziativa innovativa per mettere in contatto le varie aziende con gli studi di architettura. Io lo considero un'idea geniale perché comunque all'interno di queste riunioni c'è tanto, quindi c'è tanto di sociale, di culturale perché racchiude non solo la parte professionale facendo incontrare architetti ma anche la parte prettamente tecnica con i vari fornitori. Abbiamo risposto positivamente perché è un evento interessante per fare pubbliche relazioni, networking, molto intelligente perché mette insieme da un lato i progettisti con fornitori importanti del Made in Italy italiano, aziende estremamente prestigiose sia nell'ambito delle prestazioni dei prodotti che anche nell'ambito del design. È una bella occasione perché ti permette di incontrare altri professionisti del settore e poi comunque è sempre un'occasione per svagarsi dal mondo del lavoro e divertirsi un po'. Per noi Architett Sparty è innanzitutto un'opportunità creata da Gianluca Lupi e da TuWant per mettere in contatto realtà professionali, aziende e studi di progettazione. E' stato un bellissimo evento che ha dato l'opportunità di conoscere molte aziende per noi importanti e farle conoscere ai nostri clienti che hanno partecipato all'Architett Sparty. E si sono divertiti. 2016. Sì, infatti ci chiedono quando lo ritacciamo. Beh, Architett Sparty sono i parti più divertenti negli stori di architettura. Un momento di convivialità e di conoscenza fra grandi professionisti. Perché Architett Sparty? Perché è geniale. Perché è una bellissima manifestazione dove gli architetti hanno modo di uscire con i loro progetti, le loro idee, farsi conoscere e approfittare dell'occasione per divertirsi con gli altri. Non più solo dei concorrenti professionali ma umani e umanamente amici. E questa è una cosa bellissima. Beh, basta guardarsi in giro. Una bella serata. Architetti, aziende, ma in realtà collaboratori nella creatività. Questo per me è Architett Sparty. È un momento d'incontro tra studi e architettura che si confrontano. Molto interessante, è una cosa innovativa rispetto alla mentalità italiana dove tutti gli studi lavorano in autonomia. È un momento divertente in cui lavorare facendo, imparando qualcosa dagli altri. Ed è una cosa molto interessante perché ci permette di essere allo stesso tempo in un momento conviviale e in un momento lavorativo. Architett Sparty è un'occasione per stare insieme, aziende, professionisti per conoscersi, per far nascere delle opportunità di collaborazione e di condivisione di opportunità che possono sfociare poi dopo in occasione di lavoro. Penso che per tutti sia un modo per stare insieme, scambiarsi delle esperienze e delle connections e soprattutto anche rilassarsi un po' insieme nel mondo del lavoro che è sempre molto stressante. Posso solo dire che è un evento bellissimo ideato da questi pazzi di To Want dove ci fanno incontrare persone fantastiche e soprattutto amici, amici che ci portiamo dietro da una vita. Anche la parte è la voglia di stare insieme tra persone creative, sempre stimolanti e che hanno voglia di costruire qualche cosa e di rendere il mondo più bello. Anche la parte è quella manifestazione, quell'evento che ci organizza To Want che ci fa felici di allungare l'orario di lavoro e sono quelle 5-10 ore in più nella giornata che ti fanno felici di essere l'architetto che fa anche un po' di festa. E' la parte divertente. E' stata una serata molto piacevole, è stato un modo per condividere degli aspetti del lavoro visti in modo diverso da diverse persone, molto interessante. Parole come rete, leggerezza e creatività. Sono tre parole che potrebbero sembrare slegate, in realtà questo tipo di eventi le riesce a unire. architetto party è lo studio che si apre alla città, che si apre agli amici e serve proprio per ritrovarsi tutti insieme, finalmente un po' come all'università. Una scommetta all'inizio, devo dire poi è cresciuto tantissimo, è sempre divertente, frizzante. Rivedere, conoscere, confrontarsi con i colleghi e con le aziende in una maniera assolutamente informale. E questo permette di restringere dei rapporti più stretti. E' una bellissima occasione di poter far vedere alle persone che non vivono come noi l'architettura, che cosa è realmente l'architettura e che cosa vuol dire fare l'architettura. All'architettura party è stata una bellissima occasione per incontrare colleghi, scambiarsi idee, progetti, stare insieme. Soprattutto di amicizie, di divertimento, di casino, di sofferenza, di discussioni, ma soprattutto di affetto. Per me è lo strappo della camicia che avevo all'inaugurazione del primo architettura party. Architett party, cavolo, ai ai ai, tanta roba. Secondo me è una cosa bellissima. E' stata un'occasione di confronto, di rinnovo, di verifica. E' stata una cosa, diciamo, importante. Poi ci ha dato la soddisfazione di essere parte di un gruppo di architetti considerati tradini. E devo dire alla fine è stata una bella soddisfazione. Per me è l'allegria. E comunque è il far capire che gli architetti non sono poi così seri. Per me è un problema. Si pensa che siano. Anzi.